Scene di guerriglia da questa mattina a Bari, centinaia di immigrati residenti nel Cara hanno protestato per le lungaggini burocratiche nel rilascio dello status di rifugiati. La protesta non si placa, gli animi sono ancora surriscaldati, sono un centinaio, quelli che ancora stanno protestando sono dislocati qui lungo i binari. Li vedete lì assiepati, sono al limite del confine con il Cara, cento accoglienza richiedenti asilo, mentre si sta tentando una mediazione, ma il clima è ancora molto caldo. Una trattativa condotta da funzionari di Questura, Prefettura, Comune e Regione è arrivata al culmine di una mattinata di scontri, a nulla sono valsi i lanci di lacrimogeni. Sasaiola è contro le forze dell'ordine, molti di loro sono rimasti feriti nelle cariche con gli immigrati che per fronteggiare la polizia hanno lanciato grosse pietre tratte dai muretti a secco delle campagne. Al momento le forze dell'ordine manifestanti si mantengono a distanza, alcuni gruppi stazionano sui binari della ferrovia Bari Nord che sono bloccati con massi. Il traffico ferroviario è bloccato su questa linea e anche su quella delle ferrovie dello Stato che corrono entrambe a ridosso del recinto del Cara. Dall'esterno del centro è visibile uno dei grandi capannoni che accoglie una delle sale comuni del centro la cui copertura è stata semidistrutta. Un manifestante è stato ammanettato arrestato e quindi medicato sul posto per alcune ferite che aveva sulle braccia. La zona continua ad essere sorvolata da un elicottero della polizia mentre gli agenti sono dislocati in varie postazioni disagi. Anche la circolazione stradale per molte ore è bloccata la statale 16 in entrambe le direzioni di marcia. Siamo bloccati in questo punto della statale 16, non ci fanno andare avanti perché pochi metri più in là c'è un gruppo di ospiti del Cara che hanno lanciato anche delle pietre contro le macchie della polizia. Nel frattempo sono concitate le operazioni delle forze dell'ordine. Intanto il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano ha stigmatizzato le violenze e ha annunciato per mercoledì una riunione tecnica in prefettura.